L'aquila reale è senza dubbio il rapace più celebrato nella nostra cultura. Quello che è accaduto nel parco delle foreste casentinesi ha dell'eccezionale. L'aquila reale è presente attualmente con una sola coppia conosciuta che viene annualmente monitorata dal 1993. La zona di nidificazione si trova sul versante romagnolo, in particolare nella foresta della lama. Proprio nell'anno appena passato, la coppia di aquile, monitorata dai ricercatori della cooperativa sterna per conto dell'ente parco, si è riprodotta in modo decisamente straordinario. Unico caso in tutto l'Appennino settentrionale, la coppia nidificata su un grande abete di 35 metri di altezza ed è riuscita a involare due giovani dopo esattamente 23 anni da un altro evento gemellare. Grazie a un numero sempre maggiore di ricercatori e volontari esperti, la conoscenza dell'aquila in Italia è sempre più precisa. Proprio quest'anno c'è stato a Parma un convegno nazionale sull'aquila coordinato da due dei più grandi esperti italiani, i coniugi genovesi, Laura e Paolo Fasce. Dai lavori del convegno, che verranno pubblicati entro quest'anno dalla LIPU di Parma, è emerso che l'aquila, grazie alle misure di salvaguardia imposte dalle normative vigenti e dal lavoro di conservazione dei parchi, sta vivendo un buon momento soprattutto nell'arco alpino. L'Appennino settentrionale ha raggiunto le 33 coppie monitorate con l'involo quest'anno di 22 giovani, di cui due proprio nelle foreste casentinesi. L'eccezionalità dell'evento è data anche dal differente periodo di involo dei due giovani, infatti tra il primo e il secondo c'è stato un mese di differenza.